Ehi tu, hai appena fatto la spesa, vero? Lo sai che ogni anno un terzo del cibo prodotto nel mondo viene sprecato? A contribuire a questo spreco è tutta la filiera agroalimentare, dalla produzione alla distribuzione, dalla vendita al consumo. E questo avviene per diverse cause, come scadenze troppo prossime, packaging danneggiato, non conformità a standard estetici e commerciali. Ma da oggi puoi ridurre lo spreco alimentare, personalizzando la tua spesa grazie a Senzaspreco.it, una piattaforma online che permette a tutti i soggetti coinvolti nella filiera alimentare di vendere a prezzo scontato le loro eccedenze, a consumatori o ad altre aziende, oppure di donarli enti benefici. Entra su Senzaspreco.it, scopri sulla mappa le aziende vicino a te, seleziona il prodotto che ti interessa, contatta l'azienda e fissa il tuo incontro. E adesso non rimane altro che cominciare ad effettuare lo scambio. Con Senzaspreco.it le aziende riescono ad allocare i prodotti invenduti e l'acquirente può risparmiare sul costo del cibo comprato. Nessun alimento è stato sprecato durante la produzione di questo video.